c'è lo specchio di là e non sono pazzo va bene e oggi vi faccio vedere la camera quindi faccio il tour della stanza vediamo il tour della stanza allora qui si entra in pratica qui si entra appena entrati abbiamo questo al lato che è il 10 abbiamo simone 10 quindi ho questo filo che va qui c'ho una porterona c'ho questo il letto che è inutilizzabile e qui c'ho il mio portatile una presa le chiavi i nomi delle persone che salutavo all'inizio del video ora non le saluto più perché sono uno stronzo qui c'è il tavolo quindi aspettate ecco qui c'ho tutto uno scaffale con la k47 gli devo fare ancora il calcio c'ho una rosa c'ho un botto di roba freddy 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 un sacco di roba allora qui c'ho quest'altro mobiletto bellissimo con questo che è un cestino e tutta la roba che non riesco a centrare il cestino e quindi tutta la roba va direttamente a terra quindi qui c'ho il mio bellissimo tavolo qui c'ho il mio mazzo di carte da mago la copione del telefono un botto di roba il braumi life simone infestato dai stickman da tutti i stickman da tutti i stickman e c'ho un botto di roba in sostanza un botto un botto di roba ma se faccio così forse si vede oppure sto perdendo tempo va bene comunque è tutto molto figo cioè guardate qua c'ho un intero laboratorio nella casa in cui non c'è nessuno ora ci allontaniamo da questo buio perenne e qui c'ho un progetto che il video è durato sei minuti e non lo posso caricare sul canale perché se no ho problemi di handling qui c'ho il mouse macchinina sono uno scemo c'ho un botto di roba questa comunque raga è la mia scatola cazzo piena di roba elettrica ma è piena veramente raga cioè è veramente piena zeppa di roba elettrica è tutto molto bello interessante ciao 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 ok quindi ragazzi noi ci vediamo nel prossimo video spero che questo tutto della stanza vi sia piaciuto e aspettate cazzo cazzo ciao a tutti